26esimo congresso nazionale della società chimica italiana a farci compagnia la professoressa Gabbiani. Quali sono gli argomenti più importanti che abbiamo sviluppato durante la seduta plenaria? Durante le sedute plenarie? In particolare il tema salute, quindi attività anticancro e altre patologie connesse con la salute a livello umano. Entrando nello specifico, quanto è importante, sia nell'argomentazione che ha sviluppato oggi ma in generale, sviluppare degli incontri come questo? Questo qui è molto importante perché si creano contatti, si creano collaborazioni, anche momenti di discussione proprio perché rimettono anche in ballo quello che uno pensa magari di aver già assunto come dato finale, magari viene poi ridiscusso in queste sedi, quindi è molto importante questi momenti. Grazie.